La importanza! Ma come si può fare una sciocchezza più grande di questa? Ti meritereste il bastone! Sposo! Sposa! Si? No! Sì, no! Gesù Gesù è per mia, faccio il maestro, faccio il maestro, faccio il maestro, faccio il maestro. E la, e la, e la! Grazie per la visione! Grazie a tutti!